Ciao ragazzi, benvenuti su Gatsub Drums. Nel video di oggi voglio parlarvi di sticking e voglio farvi capire il perché gli sticking servono così tanto a un batterista perché sono fondamentali. Da quando ho incominciato ad utilizzarli alla batteria non ne ho più potuto fare a meno, si dice non ne ho più potuto fare a meno, direi di sì. E perché vi dico questo? Vi dico questo perché io all'inizio suonavo tutto a singoli, quindi qualsiasi passaggio che facevo tutto a colpi singoli e allora i colpi singoli possono aiutare se ha tanta potenza si riesce ad arrivare anche a certe velocità buone eccetera ma dopo un po' incomincia a mancare qualcosina anche proprio come creatività quindi innanzitutto cominciate dai colpi singoli ma poi sono arrivati gli sticking. Gli sticking che cosa sono? Gli sticking sono degli insiemi di colpi singoli e colpi doppi e queste cose insieme ci permettono di avere molta più velocità se studiati bene e soprattutto di spostarci molto più velocemente sul set e quindi di poter andare in giro sul set come vogliamo. Oggi voglio spiegarvi tutte le possibilità di sticking che abbiamo, tutte non è vero perché sono infinite, però quelle che secondo me sono da sapere e voglio spiegarvi come studiare gli sticking quindi quali sono, come andarli ad inserire all'interno della musica di un accordo eccetera eccetera, tutte le cose importanti e basta. Questo vuole essere un po' diciamo la continuazione del video che ho già fatto sui linear e sui gospel chops dove vi ho spiegato come funzionavano i linear, come potersi creare i linear, quali sono, le modalità e tutto. Quindi se non l'avete ancora fatto ve lo lascio qui sotto in descrizione linkato e mando la sigla così poi possiamo partire dall'altro. Allora proprio come nei linear anche gli sticking li cataloghiamo in vari modi. Allora ogni sticking ha un numero e una lettera. Partiamo dalla prima tipologia, la tipologia lettera A. Che cosa vuol dire A? Significa che il mio sticking avrà un colpo singolo all'inizio e poi dei colpi doppi che non vi dico ancora quanti sono. L'importante è sapere che quando c'è la A dopo il numero significa che avremo un colpo singolo solo all'inizio di quello sticking. Il numero che c'è dopo ci dirà quanti colpi avremo nello sticking. Ad esempio il primo che vediamo è il 3A. Il 3A ha un colpo singolo per forza all'inizio perché c'è scritto A quindi deve avere un colpo singolo e poi una coppia di doppi quindi due doppi. Colpo singolo più due doppi fa 3 quindi 3 cioè il numero è proprio il numero di colpi presenti all'interno dello sticking. Lettera A quindi un colpo singolo all'inizio. Il nostro 3A sarà questo. Ah non vi ho detto una cosa importante. Il singolo, il primo singolo che in questo caso è uno solo, ha l'accento. Questo è il 3A. 5A un colpo singolo perché ha due coppie di doppi quindi in tutto cinque colpi. Destra singolo, sinistra sinistra, destra destra e due coppie di doppi e poi andrà a invertirsi quindi sinistra, destra destra sinistra sinistra. Ovviamente qua li faccio ripetuti quindi è come facessi 5A, 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 5A. 7A invece ha quindi sempre un colpo singolo accentato e oltre quel colpo altri 6 colpi per formare il gruppo da 7 che saranno 3 coppie di doppi quindi. Neanche ve lo sono stato a dire ma ad esempio il 7A che l'ho cominciato di destra sempre all'accento di destra posso cominciarlo anche di sinistra. Non è che posso devo cominciarlo anche di sinistra. Quando li studiate studiateli prima con una mano poi con l'altra. Stessa cosa il 3A. E qua finiamo praticamente tutta la questione lettera A. Poi volendo ci sarebbe anche il 9, l'11, il 13 possiamo andare avanti all'infinito ma oggi voglio spiegarvi quelli che io utilizzo di più, quelli che secondo me è più sensato utilizzare. Come facciamo a creare un passaggio con questi primi tre ingredienti poi dopo vediamo gli altri? Allora dipende dalla metrica con cui vogliamo suonare il passaggio. Se noi vogliamo suonare un passaggio in sedicesimi avremo all'interno di una battuta 16 colpi. Quindi dovremo andare a mettere gli ingredienti proprio come nei linear mettiamo gli ingredienti in modo totale da fare 16 come totale. Ad esempio facciamo solo 3, 3, 6, 9, 12, 15, 5 gruppi 3A e poi ci rimane un colpo in più che andremo a prendere il 3, andremo a levargli gli ultimi due colpi e faremo solo il primo colpo dei 3. Quindi... 3, 4, 5, 10, 15. Oppure 5, 5, 10, 15. Stessa cosa 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 6, 7, 8, volte il gruppo da 5 e poi andrò a mettergli un colpo in più. Praticamente faccio partire il gruppo da 5 ma faccio solo un colpo per riuscire a finire la battuta completa. E questo è un modo. Ovviamente adesso ho cominciato anche a orchestrare un po' già il mio passaggio. Stessa cosa col 7. 7, 14 e poi mi avanzano due colpi quindi vado a fare i primi due colpi. E qui cominciamo già a mettere un po' di passaggi particolari. Però oggi non voglio tanto spiegarvi come andare a gestire questi passaggi. Se vi interessa fatemelo sapere qui sotto nei commenti perché così magari potrei fare un video in cui vi spiego come creare dei passaggi interessanti con gli sticking. Oggi voglio spiegarvi proprio quali sono gli sticking. Quindi abbiamo visto il gruppo A diciamo andiamo al gruppo B. Gruppo B essendo la seconda lettera dell'alfabeto cosa vuol dire? Che avrà due singoli all'inizio e poi dei colpi doppi. Quindi il primo gruppo B diciamo che vedremo sarà il 4 perché avrà i due colpi singoli dati dalla lettera B più due colpi doppi che è il minimo che gli possiamo mettere. Il singolo 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 doppio doppio è il paradiddle che possiamo fare o con l'accento sull'uno quindi un singolo accentato, un singolo non accentato e i doppi. Oppure anche col doppio accento quindi tutti e due i singoli accentati. Poi avremo il gruppo 6B che sarà il paradiddle diddle cioè due singoli due doppi due doppi in tutto sei colpi. Destra sinistra destra destra sinistra sinistra con l'accento solo sul primo colpo singolo e con i due accenti. Questo è fighissimo da fare in velocità. E poi volendo possiamo avere anche l'otto quindi due singoli due doppi due doppi due doppi questo inverte come il paradiddle. Accento sul primo Accento su tutti e due E qua finiamo anche il gruppo B. Proviamo adesso a spostarci sulle terzine. Facciamo un esempio come vi ho fatto prima sui sedicesimi ma sulle terzine usando questi gruppi. Con le terzine se io voglio fare un fill in terzine una battuta completa sarà di 12 colpi. Poi io potrò fare anche mezza battuta o un quarto quello che voglio però facciamo battute complete per adesso. Andiamo a mettere il paradiddle. Il paradiddle quante volte si sta all'interno di una battuta di terzine? Il paradiddle è un gruppo da 4. 4, 8, 12. Ci sta giusto tre volte. Proviamolo su un ritmo shuffle. Proviamolo con il doppio accento, un po' più veloce. Stessa cosa con il 6B, cioè il paradiddle diddle, con un accento solo. O con due accenti. E andiamo avanti con la parte dopo. C, gruppo C che è l'ultimo che vediamo in realtà. Ci sono anche gruppo D e gruppo E che fa Gericeffi perché tutte queste cose che vi sto dicendo sono spiegate bene nei libri di Gericeffi. E qua abbiamo tre singole all'inizio perché siamo nella lettera C. Tre singole all'inizio significa che per prima cosa la prima cellula che possiamo fare è un 5 perché tre singoli più una coppia di doppi. E seconda cosa, noi potremo andare a mettere gli accenti come vogliamo. Infatti non vi farò vedere tutte le possibilità di 5C che ci sono perché gli accenti io posso farlo con l'accento sul primo come l'ho fatto adesso ma lo posso fare anche con tutti e tre i singoli accentati. Posso accentare solo i primi due singoli. Posso accentare primo e terzo. Cioè ho una marea di possibilità. Quindi oltre al 5 vi dico però che c'è anche il 7, cioè tre colpi singoli, doppi, doppi. Che se voglio accentare ad esempio tutti posso fare così. E poi volendo io non lo uso più di tanto ma abbiamo anche il 9. Quindi tre singoli, due doppi, due doppi, due doppi. Oppure Queste sono tutte le possibilità che abbiamo di sticking o comunque queste sono tutte le possibilità che io utilizzo con gli sticking. Ovviamente più andiamo avanti con i singoli mettiamo quindi un po' di singoli, un po' di doppi insieme e più è una figata perché avete visto anche ad esempio il 5. Se io vado a fare un passaggio col 5 con gli accenti su primo e terzo singolo Iniziano a diventare veramente delle figate. O pensate fare il 5 sempre ma una volta come l'ho fatto adesso e una volta con tutti e tre gli accenti. Vengono dei fill molto con l'aiuta incomincia a sembrare. Poi ovviamente lui ha preso queste robe qua e le ha portate allo stremo delle forze ma sono veramente degli ottimi ingredienti questi per crearsi dei fill nuovi e molto interessanti. Adesso appunto come vi dicevo non sto a farvi vedere mille cose perché se siete all'inizio soprattutto con gli sticking dovete un attimino capire bene come funziona e capire quali sono questi sticking. Poi nel prossimo video se vi interessa mi raccomando scrivetemelo qui sotto andremo a vedere come andare ad applicare questi sticking e quindi come andare a metterli insieme. Cioè la cosa che vi posso dire adesso è che dovete scegliere la vostra metrica sedicesimi, terzine, ottavi, quintine, sestine eccetera. E in base a quante note avete all'interno della battuta se siete in sedicesimi ne avete sedici, se siete in terzine ne avete dodici, se siete in sestine ne avete ventiquattro e in base a quelle note lì andate a buttare dentro gli ingredienti. Oggi vi ho fatto vedere solo con un ingrediente che si ripeteva quindi ad esempio abbiamo visto il 3 ed era 3 più 3 più 3 più 3 più 3, potevo scegliere un altro numero, 7 più 7 più 7 più 7 più 7 più 7. Poi questi ingredienti incomincieremo a mischiarli quindi prenderemo ad esempio gruppo B e faremo 4B più 6B più 4B più 8B oppure magari mischieremo anche gli ingredienti quindi faremo 3A più 4B più 5C più 3B che ne so che 3B non esiste ma comunque fa niente così andremo veramente a creare cose interessanti. Spero di aver tolto un pochettino di dubbi su questi sticking se magari ne avevate perché io nel momento in cui ho cominciato ad approcciarmi a questa cosa ho detto oh cacchio quanta roba possibile c'è e quindi ho dovuto un attimino farmi uno schemino. Quindi ricordatevi numero numero di colpi lettera significa numero di singoli all'interno di quello sticking e poi andate a mischiare gli sticking insieme stando attenti a stare a tempo quindi sommate gli sticking ma non andate oltre la battuta perché se no potreste creare un po' di casino poi non ci sono mai regole ferre nella batteria come vi dico sempre. Però l'importante è stare a tempo quindi mi raccomando state a tempo con questo io la finisco qua vi ricordo se vi va di iscrivervi al canale ovviamente di mettere un like se vi è piaciuto questo video di farmi sapere se volete il video continuazione diciamo di questi sticking e fatemi sapere anche se voi utilizzate gli sticking o se siete tutto a singoli come ero io all'inizio e basta direi che vi ho detto tutto quindi noi ci vediamo al prossimo video ciao Grazie a tutti